A Pratt prima della partita gli ho detto che in quel ruolo lì potrebbe giocare nella Juventus, da mezz'ala non lo so, da tre quarti no. Sei convinto di giocare lì? Ho ironizzato, prima della partita, anche se in settimana l'ho fatto allenare sempre lì. Secondo me, per come vedo io il calcio, lì è un calciatore che può ambire a giocare con quelle squadre di quel lignaggio lì, ma questa è una mia idea, poi di mezzo c'è la convinzione del calciatore, le qualità le ha, entrambe le fasi le sa fare, ha tecniche, è un ragazzo molto intelligente, ma è una mia idea, soltanto mia. Il saluto era doveroso perché io ho sempre sostenuto e dichiarato che il nostro pubblico anche oggi è stato commovente. Io non ricordo qualcosa di simile, nel senso che loro ci hanno sempre sostenuto, non ho mai sentito una polemica, non ho mai sentito un fischio, un rimproverare i calciatori. Spingono sempre dal primo al 95esimo, è chiaro che devi cercare di giocare di là, devi trascinarli, devi motivarli, però sono straordinari e l'ho fatto indipendentemente da quello che succederà. Ho fatto perché io faccio fatica a entrare, non sono un allenatore plateale, però è stato il mio umile modo per ringraziarli di questo attaccamento, fidelizzazione costante verso la squadra, verso noi tutti, che esula da qualsiasi tipo di decisione che comunque dovremo prendere. Aspetto di parlare domani con il Presidente, ho già parlato con Osti, con Romei, ma domani chiudiamo il cerchio e poi decideremo. Domani dalle cose che ci diremo decideremo, devo poter pensare di essere un allenatore nuovo al cospetto del Presidente, quindi nuovo nel senso che ascolterò le cose che il Presidente deciderà di fare e che potrà fare, ma senza nessun tipo di ricatto. No, se ritengo o riteniamo che il mio ciclo sia concluso bisogna dire basta, avere il coraggio di dire basta, altrimenti continueremo ma dobbiamo sviscerare le tematiche e capire, perché la Samp è al di sopra degli interessi di tutti quanti noi, e io in primis, io non lo so se potevamo fare di più, se abbiamo fatto il nostro o se abbiamo fatto meno del nostro, non lo so, perché poi giudicheranno gli altri il nostro lavoro. Io l'asticella l'ho alzata io, in determinato momento del campionato, perché penso che se fossimo stati lì fino alla fine avremmo anche giocato partite migliori fino alla fine. Non serviva la Juventus per essere motivata oggi, ma l'avremmo potuta fare anche con il Chievo, con l'Empoli, eccetera, eccetera. Perché poi conosco quali sono le dinamiche, a Juventus insegna al contrario, perché poi parliamo di Juventus. Le motivazioni sono le cose più importanti, ho alzato l'asticella per arrivare, per cercare di arrivare alla fine del campionato con un andamento regolare, ma comunque non sarebbero bastati nemmeno 62, 63, non so quanti punti ha fatto il Torino, e sono tantissimi punti. Abbiamo fatti 53, che non sono nemmeno pochi. Io alla squadra non ho nulla da rimproverare perché ci ha provato sempre. E glielo ho detto anche prima ai ragazzi, prima di questa partita, il che non significa siano soddisfatti, perché significa poter pensare di migliorarci sempre, però ci hanno provato tutti. e la cosa più importante è che la Samp oggi ha un organico di 22-23 giocatori, che sono tutti giocatori buoni, non ha fardelli da scaricare, il che significa che sono migliorati tutti. Molte volte capita di avere 4-5-6 giocatori che a fine anno in qualche modo devono piazzare. Questi sono giocatori affidabili e questo è stato anche un altro aspetto importante, e quindi io li ringrazio perché il livello di professionalità è stato alto. Poi anche noi, anche io, ho sbagliato qualcosa, il mio calciatore ha sbagliato qualcosa, ci mancherebbe. E il momento più importante non è stato quello lì, ma secondo me la partita in casa con la Roma, in casa con l'Atalanta, quelle sono state le partite che potevano... Quella del Torino ci sta, perché ci poteva stare, era la terza di una settimana, siamo arrivati con poca birra nelle gambe, ma le partite club dove non meritavamo a mio avviso di perdere sono state, Lazio compreso, diciamo, la Lazio è stata l'ultima di quel trittico, ma Roma e Atalanta sono state partite giocate bene, bene che purtroppo non abbiamo vinto.